Bravi, bravi complimenti, così si fa, così si fa, bravi, congratulazioni, bravi, bravi, congratulazioni Che succede? Che ci fate qua? E perché sorridete tutti? Non dovevamo essere depressi, vergogna Zitta, zitta, ti spiego dopo, non interrompere Amici, abbiamo un annuncio, più precisamente, io voglio fare una cosa in presenza di tutti voi Sibel, amore mio, sei la madre di mio figlio, sei la ragione della mia vita Sei il bene più prezioso del mondo, la più raffinata spezia delle mie polpette Vuoi non divorziare da me? Domanda, certo che non divorzio, chi vuole divorziare? Le ha detto che è una spezia, non ci posso credere In realtà, anch'io avrei un annuncio da fare, ma prima devo fare una domanda a qualcuno, se posso A qualcuno? Ricordi quando mi hai chiesto qual era la specialità del giorno? Ricordi quando mi hai chiesto? Prima di tutto voglio ringraziarvi di cuore Mi avete sostenuto, mi siete stati vicini Soprattutto devo ringraziare Mete perché Perché mi ha fatto davvero un grandissimo favore Veramente, non è successo niente tra Scelale e me Bene Perché se fosse successo tu Questo anello lo vedresti solo nei sogni, amico mio Non potrò mai ringraziarti abbastanza Non avrei potuto comprarlo con i miei guadagni Non ce l'avrei fatta senza di te Emre Ne sei proprio sicuro? Ma è stato più sicuro, amico mio Amore mio grande Amore accetti di amarmi per sempre Anche se Noi due litigheremo per ogni sciocchezza Metteremo il muso Forse piangeremo Ci addormenteremo davanti al televisore Ti prego, prometti di amarmi Prometti Potresti essere un po' più diretto Deve rispondere sì o no Come nei quiz televisivi Shhh, Ilker Shhh Burku Burku, vuoi sposarmi? Lo voglio! Sì, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio Lo voglio, lo voglio, lo voglio Bravo Che bello Grazie Come sono contenta Vi auguro tanta felicità E per sempre Mi avete dato un'ispirazione Grazie mille, ragazzi Torno subito, ho capito Grazie Seima Che cosa ha Seima? Che le prende? Sarà andata a riprendersi il suo uomo, ovviamente Guardate ت Un'anna a riprendersi il suo uomo Grazie a tutti. 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 Beh, rispondi. Insomma, ma che succede? Deciditi. Mette, se questa scena penosa continua, io me ne vado immediatamente. Non mi rivedrei mai più. Nas, va pure. Caricabatterie? Senta, stiamo cercando di chiarirci. Sì, mi dia un caricabatterie. Vedi, Mette, io l'ho comprato per noi due, perché le nostre batterie sono scariche, ma ora guarda, abbiamo il caricabatterie. Non è detto che funzioni, perché chi può dirlo, non è detto che funzioni, perché chi può dirlo, ma almeno ci ho provato. Proviamo, torniamo indietro. Mette, vuoi provare a stare ancora con me? Mette, possiamo provarci, se vuoi, ricominciare tutto da capo. Mette, vuoi sposarmi? Sai, ma parli seriamente. Parlo seriamente, come non ho mai fatto. Un momento, devo essere io a domandarlo. Me ne dia un altro. Scusate, ma chi paga? Un momento. Aspetti un attimo, i soldi li diamo dopo. Sai, ma... Sai, ma vuoi sposarmi? Questa è la seconda volta che me lo chiedi. Sai che abbiamo bloccato il traffico, vero? Lo voglio. Lo vuoi? Lo voglio. Lo voglio. Lo voglio. Lo voglio. Come sono felici. Chi è che paga? Dovete pagare. Troviamo il modo di mandarlo via. Eh? Ciao. Ciao.